Benvenuti alla seconda parte Epidemiologia per non epidemiologi dell'enigma di Covid-19. In questa lezione io parlerò e cercherò di spiegare il tipico modello epidemiologico di contagio, il modello SIR. Attraverso questo modello cercheremo di valutare i vantaggi e gli svantaggi di differenti politiche sanitari. Poi per contestualizzare questo modello teorico presenterò lo studio su Covid-19 del team di ricerca dell'Imperial College. Questo è uno studio che è stato pubblicato il 16 marzo ed ha influenzato in maniera sostanziale le politiche sanitarie inglesi sul contenimento della diffusione del Covid-19. L'obiettivo qui è di permettere di formare un'opinione di come politiche sanitarie diverse possono raggiungere il loro obiettivo oppure no. E poi concluderò evidenziando la necessità di acquisire maggiori dati per poter valutare e migliorare le politiche sanitarie attuali e quelle che dovremo prendere nei prossimi mesi. Allora iniziamo col modello. Il tipico modello epidemiologico è chiamato suscettibili infetti rimossi, SIR. In questo modello gli individui in ogni periodo possono essere in una delle tre categorie, suscettibili, infetti e rimossi. Le persone suscettibili sono persone che stanno bene, che non hanno immunità del virus e che quindi interagendo con persone che sono infette possono contrarre il virus. Nel momento in cui i suscettibili contraggono il virus diventano infetti. Persone infette hanno un periodo nel quale possono trasmettere il virus a persone che sono suscettibili. Nello stesso tempo persone infette dopo un determinato periodo possono guarire e quindi diventano da infetti a individui rimossi. Individui rimossi sono persone che erano suscettibili, sono diventate infette e sono guarite. In questo modello è assunto che nel momento in cui uno guarisce diventa immune, cioè nel momento in cui una persona è nella categoria dei rimossi non può più contrarre il virus. Quindi se vogliamo ricapitolare questo modello e pensiamo a quello che può succedere giorno dopo giorno se il virus COVID-19 si propaga a secondo, rispettando le regole di questo modello semplice, giorno dopo giorno le persone che stanno bene, i suscettibili, possono continuare a stare bene e quindi rimanere suscettibili oppure possono diventare infetti. Nel momento in cui gli individui sono infetti possono trasmettere il virus a persone suscettibili e nello stesso tempo a un certo punto possono guarire e diventare rimossi. Nel momento in cui una persona guarisce diventa immune. Allora, quello che noi siamo interessati in questo giorno è la curva di contagio. Perché siamo interessati alla curva di contagio? Siamo interessati alla curva di contagio perché vogliamo comprendere quale sia la domanda per la sanità, cioè quale sia la domanda per i letti in ospedale necessaria per curare persone che sviluppano complicazioni dovute al COVID-19. E quello che voglio fare è cercare di spiegare che in questo tipo di modello, nel momento in cui il virus si trasmette a seconda di queste regole, c'è un parametro chiave che determina lo sviluppo di questa trasmissione del contagio, che si chiama replication number, o il numero di replicazione. Che cos'è il replication number? È la quantità media di persone infettate per individuo contagioso. Allora, facciamo un piccolo esperimento. Adesso io voglio sviluppare con voi la curva di contagio nel momento in cui il replication number è sotto e minore di 1 e quando il replication number è maggiore di 1. Per il caso di COVID-19, in questo momento il replication number è stimato ad un valore di circa 2, 2.3, 2.4. Allora, supponiamo che il replication number è 0.5. Cosa significa? Significa che ogni due persone che sono infette, in media, nel periodo in cui loro sono contagiosi, infetteranno un altro individuo. E consideriamo che partiamo da un mondo dove tutti stanno bene e, per qualche sfortuna, due individui contraggono questo virus. E questi due individui si chiamano Paolo ed Andrea. Paolo ed Andrea saranno infetti per un giorno, dopo un giorno guariranno da questo virus. Ora, in questo giorno in cui sono infetti, sono contagiosi e quindi si possono trasmettere l'infezione a individui suscettibili. Tutti gli individui sono suscettibili in questo momento, ma poiché il replication number è 0.5, alla fine della giornata Andrea e Paolo guariranno e quindi non saranno più infetti e avranno trasmesso il virus al massimo a un'altra persona, poiché il replication number è uguale a 0.5. Quindi, alla fine della giornata, siamo passati da due persone infette, Andrea e Paolo, a una persona infetta, per esempio l'amico di Andrea, che si chiama Davide. Allora, Davide adesso è infetto e quindi sarà nella popolazione, interagerà nella sua popolazione, andrà a incontrare amici, andrà in discoteca e, nel momento in cui fa queste cose, è contagioso e quindi può trasmettere anche lui il virus ad altre persone. Ma il replication number è 0.5, quindi alla fine della giornata anche Davide sarà guarito e all'interno della popolazione Davide ha trasmesso il virus al massimo ad un'altra persona. Quindi siamo passati dal primo periodo dove Andrea e Paolo sono contagiati, sono infetti, guariscono, poi Davide è infetto, guarisce, poi c'è un amico di Davide che al massimo è infetto e quindi a un certo punto l'infezione non si propaga all'interno della popolazione, ma a un certo punto l'infezione scomparirà automaticamente. Un replication number inferiore a 1 non porta a questa crescita esponenziale che abbiamo visto in Italia. Supponiamo però che il replication number è maggiore di 1, per esempio i 2, e rifacciamo lo stesso esperimento. Andrea e Paolo diventano infetti. Alla fine della giornata adesso Andrea e Paolo guariscono, però cosa succede? Andrea infeziona, crea e trasmette il virus ad altre due persone. Paolo trasmette il virus ad altre due persone, quindi nella società quando Andrea e Paolo guariscono ci sono quattro persone che sono infette. Queste quattro persone che sono infette, quindi prima di tutto osserviamo che siamo partiti da una situazione dove ci sono due persone che sono infette e nel secondo periodo ci sono quattro persone che sono infette. Quindi l'infezione adesso è duplicata. Queste quattro persone alla fine della seconda giornata guariranno, ma ognuno di queste quattro persone trasmette il virus ad altre due persone, e quindi alla fine della seconda giornata ci saranno otto persone che sono infette. Alla fine della terza giornata ognuno di queste persone guarirà, ma ognuno di queste trasmetterà il virus ad altre due persone, e quindi ci saranno 16 persone che sono infette. Poi ce ne saranno 32, poi ce ne saranno 64. E quindi il virus adesso si sta trasmettendo all'interno della società in una maniera esponenziale. Stiamo replicando questa crescita esponenziale che sfortunatamente stiamo tutti assistendo. giorno dopo giorno. Allora, che cosa succederà a questa crescita? Sarà il caso che questa crescita continuerà per sempre, finché tutti diventeranno infetti, oppure si fermerà prima? E il punto importante qui da realizzare è che in effetti questa crescita ad un certo punto si fermerà automaticamente. Perché? Perché nel momento in cui persone diventano infette, quindi le persone diventano infette, 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 sono anche le persone che guariscono. E nel momento in cui guariscono, sotto l'assunzione che guarigione è uguale a immunità, nel momento in cui guariscono, queste persone diventano immuni e quindi, nel momento in cui ci sono tante persone che sono immune, le persone infettate, quando interagiscono con le altre persone, interagiscono non solo con persone che sono suscettibili, ma anche con le persone che adesso non possono contrarre il virus. Questo significa che automaticamente il numero di replicazione sta crescendo, scusa, sta diminuendo. Sta diminuendo da 2 a 1.5 a 1 e poi diventerà sotto 1 e quindi piano piano il virus scompare automaticamente. Nel momento in cui tante persone sono infette, piano piano ci saranno anche tante persone che sono immuni e questo crea questa immunità di massa che diminuisce il replication number e quindi porta alla scomparsa del virus. Quello che abbiamo fatto, come ho anticipato, abbiamo replicato questa curva teoretica dei contagi che vediamo tutti i giorni, che avete visto tante volte. Questa è la fase nel quale il virus si trasmette nella popolazione in maniera esponenziale perché il replication number è sopra 1, ripeto, nel caso del Covid è stimato a essere 2, 2.4. Poi a un certo punto, questo è il periodo in cui ci sono molte persone che sono immune e a questo punto il replication number diminuisce. Allora, se vogliamo comprendere quindi come poter cambiare questa curva dei contagi, quello che dobbiamo capire è cercare di comprendere come cambia il replication number. Da che cosa dipende il replication number? Tutti noi abbiamo sentito in questi giorni che abbiamo bisogno di schiacciare questa curva, abbiamo bisogno di appiattire questa curva. Cosa significa appiattire questa curva? Significa cambiare il numero di replicazione. Che cosa è il numero di replicazione? Da che cosa dipende il numero di replicazione? Il numero di replicazione dipende da varie cose. Dipende dalle caratteristiche del virus, qual è il periodo in cui le persone sono contagiose, quanto è facile trasmetterlo il virus. Dipende dalla frazione di popolazione che sono immune. Allora, l'immunità si acquisisce in due maniere. Si acquisisce con i vaccini, ma in questo momento non è disponibile, e si acquisisce con l'immunità che può essere acquisita nel momento in cui si contrae il virus e poi si guarisce. Però è importante, assolutamente importante, sottolineare il fatto che noi in questo momento non sappiamo se la guarigione dal COVID-19 porta immunità. C'è un'evidenza scientifica che suggerisce che ci possa essere qualche forma di immunità, ma in questo momento questo non è ancora chiaro. Quindi è molto importante perché tutte le considerazioni che vengono fatte utilizzando questi tipi di modelli epidemiologici assumono che ci sia una forma di immunità acquisita tramite la guarigione. Allora, le caratteristiche di 1 e 2 sono caratteristiche che in questo momento noi non possiamo modificare. La comunità medica sta lavorando 24 ore su 24 per comprendere meglio le caratteristiche del virus e nello stesso tempo per cercare di fornire, di creare un vaccino per poter creare immunità di massa tramite vaccinazione. Ma in questo momento questi sono strumenti che non possiamo usare, dobbiamo lasciare la ricerca a fare il proprio corso. La cosa che possiamo fare è interagire e intervenire sulle interazioni sociali. Il COVID-19 si propaga con vicinanza e quindi nel momento in cui noi possiamo modificare le interazioni sociali possiamo diminuire o cambiare il replication number. Infatti, tutte le politiche che sono state effettuate in questi periodi cercano di cambiare il replication number e possono essere classificate in due categorie per semplicità. Politiche di contenimento e politiche di soppressione. Politiche di contenimento sono politiche che cercano di diminuire il replication number in maniera tale da appiattire la curva mantenendolo però al di sopra del valore critico. Per esempio, queste sono misure di isolamento che però non sono molto forti. Per esempio, la quarantena oppure l'isolamento al di sopra di persone che hanno una certa età. L'isolamento di persone che sono più vulnerabili a questo virus. Politiche di soppressione invece sono politiche che oltre a essere di contenimento aggiungono delle restrizioni più forti alla interazione sociale. Per esempio, la chiusura di scuole, la chiusura di università, l'isolamento totale. Il discorso è che noi quello che vogliamo fare vogliamo cercare di comprendere come questo tipo di politiche qual è l'effetto di questo tipo di politiche nell'appiattire questa curva. Allora, per darvi un'idea io quello che farò adesso è discutere lo studio effettuato dal team dell'Imperial College di Londra. Questo, come ho ricordato all'inizio, è uno studio che è stato pubblicato il 16 marzo e che ha portato al cambiamento della politica del governo inglese da misure di contenimento a misure di soppressione. Questa tabella descrive le varie tipi di esperimenti che sono stati fatti all'interno del modello SIR che è stato utilizzato da questo team di epidemiologi. Per esempio, traducendo questa prima parte, questa è una policy di case isolation. Che cosa significa? Significa che persone che sono sintomatiche devono rimanere a casa per sette giorni e l'assunzione che viene fatta in questo modello è che nel momento in cui le persone rimangono a casa per sette giorni questo riduce l'interazione sociale con persone al di fuori della propria famiglia del 75%. Poiché c'è una riduzione dell'interazione sociale con le persone che sono al di fuori di una categoria di individui quelli che sono sintomatici questo fa sì che il replication number diminuerà. E nel momento in cui viene fatta questa simulazione viene assunto che il 70% delle persone seguiranno questa politica mentre un 30% non la seguiranno. E la questione principale è se noi imponiamo questa politica e quale sarà la diminuzione quantitativa di questa curva di contagio quanto riusciamo ad appiattirla. E i risultati adesso quello che farò vi darò dei risultati precisi che seguono da questo studio. Questo è un grafico molto questo è uno slide con tante informazioni quindi cercherò di essere preciso e di andare in ordine. Questo grafico alla vostra sinistra rappresenta le politiche di contenimento mentre questo grafico nella destra rappresenta politiche di soppressione. Ora mi focalizzo nelle politiche di contenimento. Nella asse orizzontale abbiamo il tempo questo è il periodo in cui queste politiche vengono introdotte e vengono rimosse. Tutte queste politiche che adesso cercherò di spiegare vengono introdotte ad aprile 2020 e verranno rimosse a in luglio 2020. Nell'asse verticale abbiamo il numero di letti necessari per il numero di letti necessari ospedalieri dovuti al covid-19. Quindi questa qui è quanto è la domanda per gli ospedali dovuto al covid-19. Io mi voglio focalizzare prima di tutto su questa linea rossa. Questa linea rossa è la capacità del sistema sanitario inglese. Come Paolo vi ha fatto vedere nella prima lezione in Inghilterra ci sono circa 5.000 letti per 100.000 persone della popolazione che sono disponibili all'interno del sistema sanitario. In Italia sono di più sono sopra i 10.000 e come Paolo ha fatto vedere la capacità nel sistema italiano è stata aumentata tramite tanti sforzi. In tutto quello che adesso io dirò la capacità del sistema inglese è considerata e assunta non poter cambiare in tutto questo periodo. In realtà questa curva potrà aumentare un pochettino. Queste curve invece rappresentano la diffusione del virus nella popolazione a seconda di varie misure e io mi voglio concentrare in quella nera e in quella blu. Quella nera è la diffusione del virus e l'implicazione per la domanda di letto ospedalieri se il governo non fa niente quindi se noi continuiamo a vivere come niente fosse. Quella blu invece è la domanda di letto ospedalieri nel momento in cui il governo crea politiche di contenimento abbastanza forti e che riguardano l'isolazione di persone che hanno sintomi la quarantina di persone di tutta la famiglia nel momento in cui c'è una persona che ha dei sintomi e che le persone che sono che hanno un'età superiore a 70 anni devono rimanere a casa. Quindi questo per esempio non richiede che tutti stiano a casa questa politica non richiede che le scuole vengono chiuse e che le università vengono chiuse. Quindi c'è ancora tanta interazione all'interno della società. Però possiamo vedere che introducendo queste misure andiamo da un picco molto alto a un picco molto più basso. Quindi riusciamo ad appiattire questa curva in maniera sostanziale. In maniera sostanziale ma non sufficiente. Prima di tutto se non facciamo niente, la differenza fra la domanda di letto ospedalieri e l'offerta di letto ospedalieri è enorme. Possiamo vedere la differenza fra la nera e la rossa. E infatti lo studio inglese stima che nel momento in cui il governo inglese non fa niente ci saranno 510.000 morti in Gran Bretagna dovuto a questo virus. Senza considerare il fatto che il sistema sanitario collasserebbe. Nel momento in cui introduciamo questa politica come ho appena detto c'è un forte appiattamento di questa curva ma nello stesso momento possiamo vedere che c'è una grandissima differenza fra la domanda di letto ospedalieri e quello che il sistema sanitario inglese può curare. E quindi questa grossa differenza anche in questo caso riduce la mortalità ma la stima di questo studio è che in Inghilterra con questa politica ci saranno 250.000 morti. Per concludere quello che possiamo vedere da queste figure è che queste politiche di contenimento hanno un grandissimo costo nel breve periodo. Il sistema sanitario non è capace di soddisfare la richiesta di letto ospedalieri è una grandissima differenza questo fa sì che comunque la fatality rate quindi il rate di mortalità sarà molto alto tante persone moriranno però nel momento in cui queste politiche vengono rimosse il virus continua a diminuire senza riaumentare quindi questo è il costo nel breve periodo di queste politiche questo è il beneficio di queste politiche nel lungo periodo sotto l'assunzione che nel momento in cui una persona guarisce diventa immune poiché queste politiche non spingono il replication number sotto l'uno durante questo periodo da aprile a luglio tante persone si ammaioranno ma anche tante persone guariranno guarendo prendono immunità nel momento in cui le porte vengono riaperte il virus la società diventa robusta al virus e quindi non ci sono altre fasi di contagio adesso ci spostiamo alle politiche di soppressione le politiche di soppressione sono politiche che aggiungono a queste misure di distanza sociali delle misure ancora più forti per esempio qui aggiungiamo qui chiudiamo anche le scuole nella curva verde chiudiamo anche le scuole delle università nella curva arancione chiudiamo scuole università e scusi nella curva verde chiudiamo scuole università e creiamo anche isolazione per tutte le persone mentre nella curva arancione creiamo isolazione per tutte le persone senza chiudere scuole e università come possiamo vedere nel momento in cui noi introduciamo questo modello di soppressione queste curve di contagio vengono appiattite in una maniera sostanziale molto di più che politiche di contenimento infatti non possiamo neanche vedere qual è la differenza fra la domanda e la capacità del sistema sanitario per farlo dobbiamo focalizzarsi in questa area questo è quello che fa questa figura in questa figura come possiamo vedere vediamo che nel periodo in cui queste politiche di soppressione vengono attuate quello che succede è che la domanda di letto ospedalieri è più o meno uguale a quella della capacità del sistema britannico e quindi questo fa sì che in questo periodo ci saranno ancora persone che moriranno a causa del virus però saranno molto meglio infatti la stima è che con queste politiche in questo periodo in cui queste politiche sono attive il numero di morti è 20.000 che è molto molto minore di 200.000 che era il caso migliore di politiche di contenimento questo è il beneficio di queste politiche di soppressione di quelle che adesso abbiamo in Italia in Inghilterra e quasi in tutti i paesi che sono che stanno combattendo questa guerra contro il covid 19 però c'è un costo come potete vedere queste politiche vengono attuate nell'aprile del 2020 e vengono cessate nel settembre 2020 quindi è un periodo molto lungo e come potete vedere nel momento in cui vengono cessate sotto l'assunzione che vengono cessate poi tutto torna alla normalità come potete vedere quello che succede è che dopo qualche mese abbiamo un'altra fase di contagio quindi queste politiche riducendo questo replication number molto in maniera sostanziale diminuiscono il contagio ma poiché diminuiscono il contagio fanno anche sì che le persone non si ammalano e non si e non guariscono e quindi non si forma immunità e poiché non si forma immunità nel momento in cui non abbiamo un vaccino per creare un'immunità farmaceutica questo fa sì che poi la società è ancora vulnerabile questi sono i benefici e i vantaggi gli svantaggi di queste politiche politiche di contenimento hanno il vantaggio di creare immunità nel medio e lungo periodo sotto l'assunzione che l'immunità si ottiene nel momento in cui si guarisce però hanno un costo nel breve periodo il sistema sanitario collassa e per questo ci sono tante persone che muoiono le politiche di soppressione hanno il vantaggio di limitare in maniera sostanziale la diffusione del virus nel breve periodo però poi quando riapriamo le porte quello che succede è la società è ancora vulnerabile che cosa quindi che cosa fare che cosa signora che cosa dobbiamo fare adesso che cosa devono fare gli altri paesi chiaramente è chiaro che in questo momento queste politiche di soppressione sono la cosa migliore noi non possiamo tollerare questi tipi di risultati questi tipi di outcome non si possono tollerare c'è bisogno di sopprimere questo virus però questo qui non è una soluzione permanente è impossibile pensare che noi continuiamo queste politiche di soppressione per più di qualche mese semplicemente perché la società ha bisogno di funzionare di tornare alla normalità quindi una cosa che dobbiamo che dobbiamo realizzare è che quello che queste politiche di soppressione fanno hanno un valore oltre a quello appunto di diminuire la mortalità nel breve periodo ma hanno un valore quello di darci del tempo del tempo per capire cosa fare nel momento in cui possiamo rilassare queste politiche di soppressione allora quindi quello che voglio fare nell'ultima parte di questa lezione è cercare di pensare a che tipo di politiche possono essere attuate in questo periodo nel momento in cui abbiamo contenuto il virus e cerchiamo di ritornare alla normalità e per fare questo la cosa migliore è cercare di capire quello che non capiamo e la cosa più importante in questo momento che io vorrei puntare è il fatto che noi abbiamo pochissime informazioni e le informazioni che abbiamo sono molto incomplete questo è uno studio che è stato pubblicato in una rivista internazionale Science e questo è uno studio che utilizza osservazioni su persone infette in Cina e date di mobilità e cerca di creare delle inferenze sulla frazione di infezioni non documentate quello che ottengono è una stima che l'86% di tutte le infezioni siano non documentate cosa significa significa che la maggior parte delle infezioni che sono presenti non sono documentate quindi noi non le conosciamo in particolare e la ragione principale è che ci sono molte persone che ci potrebbero essere molte persone che hanno contratto il virus ma sono asintomatiche e quindi questo virus non viene riportato per ogni persona che è asintomatica il tasso di trasmissione delle infezioni è pare al 50% di quelle documentate cioè le persone che sono asintomatiche sono contagiose ma molto di meno di quelle che sono sintomatiche però poiché i casi non documentati sono molti maggiori di quelli documentati e sono proprio gli asintomatici che sono la fonte di contagio per il 79% dei casi allora questo è una cosa importante perché fondamentalmente si dice noi ci sono tante cose ci sono tante di queste persone che sono asintomatiche e noi non abbiamo informazioni di chi sono queste persone allora ci sono delle buone notizie da questo studio perché questo significa che le stime esistenti sul tasso di fatalità per esempio sono probabilmente sopraestimate ci dice anche che se è vero che nel momento in cui una persona guarisce acquisisce immunità allora c'è già un grado di immunità nel sistema nuove analisi in Inghilterra dicono che ci possono essere anche il 50% della popolazione che è già immune ovviamente questi qui sono dati molto speculativi in questo momento c'è però anche una cattiva notizia che è probabile che quando gli interventi sono iniziati questi misuri di soppressione sono iniziati il viro fosse già diffuso e quindi le stime che noi abbiamo della simulazione su come attenuare questa curva potrebbero essere sopraestimate quindi troppo ottimiste però il punto principale di questo slide è che noi stiamo formulando politiche sulla base di dati incompleti e quindi se noi vogliamo pensare a cosa poter fare nel nel momento in cui rilassiamo le politiche di soppressione noi la prima cosa che dobbiamo fare è acquisire dati acquisire dati questa è una semplice proposta è una proposta che non c'è niente di originale ma è una proposta di buon senso noi abbiamo bisogno di testare un campione rappresentativo della popolazione indipendentemente dai sintomi dobbiamo registrare nelle caratteristiche socio-economiche demografiche e geografiche a livello individuale e a livello familiare con questi metodi poi sarà possibile utilizzare metodi statistici per dedurre le caratteristiche individuali che meglio predicono la diffusione del covid-19 è solo attraverso questo tipo di informazioni che noi possiamo poi sviluppare strategie di sorveglianza e di contenimento basate sulle informazioni che abbiamo preso per esempio tracciabilità dei contatti a livello nazionale e cercare di rimuovere queste misure di social distancing e nello stesso tempo nel momento in cui comprendiamo dove il virus si sta espandendo di nuovo possiamo intervenire in una maniera mirata in maniera tale da contenerlo però abbiamo bisogno di informazione e questo è il momento di raccogliere le informazioni non possiamo aspettare queste misure di soppressione ci stanno dando del tempo che dobbiamo utilizzare in una maniera efficiente raccogliere dati condurre analisi statistiche su campioni rappresentativi può salvare molte vite l'obiettivo è di appiattire la curva di contagio che potrebbe avere un nuovo picco nell'autunno 2020 e qui adesso voglio concludere fornendo qualche evidenza su questo tipo di strategie e qui io quello che voglio fare voglio comparare voglio il caso della Corea del Sud col caso dell'Italia la Corea del Sud ha avuto un forte aumento nei casi a febbraio ma è riuscita a rallentare la diffusione a marzo questa compari queste due curve rappresentano il numero di contagi e queste due curve rappresentano il numero di morti potete vedere con i vostri occhi come la differenza che c'è fra l'Italia e la Corea del Sud l'Italia e la Corea del Sud per entrambi le statistiche quindi la Corea del Sud ha fatto quello che ha fatto l'Italia però ha fatto qualcosa di più ha fatto tanti test per esempio in Corea hanno fatto 5500 test per ogni milione di persone in Italia qualche giorno fa eravamo circa 2500 test per ogni milione di persone in Gran Bretagna qualche giorno fa eravamo a 750 per ogni milione di persone i test erano prontamente disponibili nella Corea del Sud gratuiti con prescrizione medica ed erano anche disponibili privatamente ed erano rimborsati dal governo se i risultati erano positivi e tutte queste informazioni venivano utilizzate per fare traccia dei contatti cioè per intervenire in maniera mirata dove l'infezione incominciava a espandersi e questo qui viene fatto attraverso una collaborazione fra governo ricercatori medici ricercatori non medici statistici e anche il mondo privato quindi io vorrei fare un riassunto della seconda parte sulla politica sanitaria tutte le politiche sanitarie di Covid-19 hanno un obiettivo ridurre il numero di replica della malattia il replication number quando noi sentiamo dire dobbiamo appiattire la curva di contagio significa dobbiamo diminuire il replication number in questo momento l'unica maniera per diminuire il replication number è attraverso l'introduzione di misure che diminuiscono l'interazione sociale data l'attuale capacità del sistema sanitario le misure di soppressione sono le uniche che possono aiutarci nel breve termine quindi per favore tutti noi dobbiamo seguire le linee guida del governo la capacità del sistema sanitario può essere ampliata nel breve termine facendo affidimento sul privato e operatori sanitari in pensione usiamo in modo efficace il tempo guadagnato dalle norme sulla soppressione queste politiche di soppressione avranno un effetto come possiamo vedere in questi giorni in Italia dove ci sono delle notizie più positive sull'andamento dei contagi però sono politiche che nel momento in cui vengono rimosse molto probabilmente lasciano la società vulnerabile quindi noi dobbiamo considerare che in questo momento abbiamo del tempo per poter acquisire dati che in questo momento non abbiamo che sono molto imprecisi dobbiamo testare un campione rappresentativo della popolazione per raccogliere informazioni affidabili e imparziali sulla prevalenza di covid-19 dobbiamo fare un'ampia analisi statistica all'interno e tra paesi che si trovano in fasi diverse e sviluppare strategie di sorveglianza basate su queste informazioni affidabili il set di slide completo ed aggiornato è disponibile in questo sito e il prossimo video si intitola l'enigma di covid-19 parte testa terza economia per non economisti grazie mille grazie mille